Incidenti aerei a catena in Iran, all'aeroporto di Mansahar nella regione centro-occidentale del paese. Un velivolo in arrivo da Teheran a causa di un guasto è stato costretto a un atterraggio di fortuna fuori pista. Illesi i 135 che erano a bordo. Nell'aeroporto della capitale altri due aerei di linea sono stati costretti a rientrare dopo il decollo per problemi tecnici. Secondo i media nazionali, i frequenti guasti alla flotta passeggeri iraniana sono in parte causati dalle sanzioni USA che rendono più difficoltose le attività di manutenzione.